La campagna Vivi con Stile, che poi a Milano si chiama con stile appunto, è una campagna che vuole seguire, aiutare gli abitanti che vogliono cambiare i loro stili di vita passo passo, con delle singole azioni. Faccio degli esempi, una delle azioni è quella di non utilizzare più il sacchetto di plastica, classicamente, per fare la spesa, perché a Milano si usa più che nel resto di tutta Italia il carrello della spesa e quando proprio occorre la sporta o addirittura il sacchetto che si cerca di riutilizzare diverse volte. Non solo, il suggerimento è usa il sacchetto che usi per la spesa in funzione del materiale per fare la relativa differenziata e quindi quale migliore occasione per fare la raccolta dell'organico con il sacchetto appunto di bioplastica o dei materbi, oppure quello della carta per fare la raccolta differenziata della carta, ogni sacchetto ha la sua raccolta. Altro esempio di iniziativa è quello di promuovere ancora più la raccolta differenziata o la minor produzione di rifiuti nelle case. Anche bene il 9% degli alimenti che noi compriamo ogni mese finiscono come scarto, anche quello dobbiamo evitarlo, anche perché ha su tutti i soldi.